partete al comando si porta gradatamente Ollidor seguito all'esterno da Calispera poi Polarjet con all'esterno carta romana ancora Capitan Sbudella con all'esterno Dan Gregg cavalli lungo la curva Calispera ora è passata a condurre davanti ad Ollidor in terza posizione all'esterno Dan e Gregg davanti a Capitan Sbudella carta romana e Polarjet cavalli ora in retta di arrivo Calispera sta allungando nei confronti di Ollidor dietro i primi in segue Capitan Sbudella che ha scavalcato Polarjet quindi carta romana a largo siamo a 300 dal palo Ollidor attacca a fondo Calispera le due sono in lotta a largo sta avanzando anche Capitan Sbudella siamo nel tratto finale Ollidor a centro all'interno Capitan Sbudella che ha scattato a centro pista nel tratto finale Capitan Sbudella è passato di forza nei confronti di Calispera e Ollidor vicini per il posto d'onore poi Polarjet quarto andiamo a rivedere Carletto Fiocchi in sella numero uno dello schieramento Capitan Sbudella che è passato a centro della pista e negli ultimati ha concretizzato una lunghezza di vantaggio nei confronti di Calispera e Ollidor vicinissimi per il posto d'onore quindi uno e poi cinque sei in lotta per il posto d'onore e sarà meglio aspettare il risponso del giudice d'arrivo